Anche oggi le associazioni si mobilitano, oggi siamo stati in un flash mob in rappresentanza delle migliaia di persone che in Italia e di associazioni e di vittime della strada che si stanno mobilitando da settimane per dire stop al codice della strage. Questo codice in discussione alla Camera è molto pericoloso e rispondiamo al Ministro Salvini che dichiara di avere sentito e di essersi confrontato con le associazioni rispetto a queste misure. Sì, siamo stati sentiti ma non sono state recepite le nostre istanze, le istanze che difendono la sicurezza stradale. Le strade d'Italia saranno molto più insicure con questo nuovo codice che non deve essere approvato ma deve essere fermato e ridiscusso con tutte le associazioni e con le vittime della strada. Se la violenza stradale fosse una malattia, questo nuovo codice ci sta togliendo gli antibiotici, strumenti di prevenzione fondamentali per difendere la sicurezza.